Come investire i soldi a breve termine a basso rischio? Questa è una delle domande più ricorrenti nei siti web dedicati ai mercati finanziari, oltre a fatto che è la prima richiesta che qualunque persona in navezza del campo fa un consulente finanziario quando se lo trova a tiro. La soluzione in realtà è molto semplice. Il problema semmai è che il risultato finale, essendo inferiore alle aspettative, potrebbe lasciare delusi. Infatti, anche se nessuno lo dice chiaramente, quell'investire soldi a breve termine e a basso rischio si aggiunge una terza richiesta probabilmente lasciata come sottintesa. E che abbia un buon rendimento. Da quanto appena detto, forse avrai già intuito che non si può avere la botte piena e la moglie obbriaca, poiché occorre fornire una lista delle preferenze in ordine di importanza, altrimenti un consulente non potrà operare per fornire la soluzione migliore. Inoltre, tengo a precisare che chiunque si prenda la briga di studiare una soluzione sa già che il cliente vuole guadagnare il piu' possibile, quindi non è che c'è bisogno che venga richiesta appositamente. Un esperto, che sia veramente tale, darà direttamente la soluzione che fermo restando le prime due richieste fornisce il rendimento migliore. Prima di continuare ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni e ti ricordo anche di cliccare nel link giù in descrizione per accedere ai 7 milioni gratuiti sugli investimenti. Bene, fatte queste necessarie premesse passo ad una possibile soluzione alla domanda iniziale, cioè come posso investire soldi a breve termine a basso rischio. Devi sapere che il tasso di interesse fornito dai prodotti finanziari dipende da tre fattori. Il primo è per quanto tempo i capitali rimangono vincolati. Il secondo è il tipo di difficoltà che si riscontrerebbe nel volersi liberare prima dei termini dal contratto. Il terzo i rischi che si corrono aderendo a un determinato tipo di investimento. Iniziamo dal primo. Per quanto tempo i capitali rimangono vincolati? E' logico che un prodotto che ti obbliga a tenere fermi col cemento per dieci anni i tuoi soldi deve fornirti un tasso di interesse sicuramente maggiore rispetto a una soluzione che vincola le tue risorse finanziarie solo per un anno. Da ciò si vince che un investimento a breve termine mal si concilia con uno ad alto rendimento. Il secondo punto riguarda la facilità o meno di poter ricollocare il contratto che hai stipulato se tu dovessi avere una qualche urgenza di avere subito denaro liquido. Un prodotto finanziario facile da ricollocare ha tassi di interessi minori rispetto a uno che al contrario ti rimane sul gruppone per anni. Questo e' uno dei motivi per cui un BTP, che è un'obbligazione statale a tasso fisso, ha in genere dei tassi migliori rispetto a un CCT che invece a tasso variabile ha parita' di durata. Il tasso fisso, proprio perché non cambia nel tempo, diventa un'arma a doppio taglio che costringe ad una variazione del valore dell'obbligazione in conto capitale. Puoi approfondire l'argomento guardando il video sui BTP che ti inserirò linkato in descrizione. Infatti, se i tassi scendono, il possessore di un BTP guadagna piu' del mercato e poi diventano un valore superiore al prezzo nominale di emissione. Tuttavia, se i tassi salgono, si ritroverebbe con un prodotto di scarso valore che nessuno comprerà a prezzo pieno, in quanto chiunque potrebbe comprare la nuova emissione piu' bandaggiosa e quindi perdera' valore rispetto al prezzo nominale. Quindi, siccome chi prende un BTP si fa' carico di un rischio maggiore, lo Stato ricompensa tale rischio con una remunerazione migliore benché questa sia comunque decisa dal mercato mediando il meccanismo delle aste. Già, ciò che ti ho appena detto si arriva alla conclusione che una soluzione a breve termine non ha un rischio di rimanere sul gruppone e quindi tale rischio basso non verra' di certo premiato con chissà quale ricompensa. Il terzo punto è quello fondamentale. Infatti, i compensi di un investimento sono strettamente legati al rischio che corri quando lo tieni in portafoglio. Le obbligazioni italiane danno rendimenti legati alla stabilita' del nostro paese. Quelle tedesche daranno rendimenti legati alla stabilita' economica della Germania che, nel caso specifico, è migliore e quindi le cedole sono piu' basse e le obbligazioni dei paesi del terzo mondo, avendo rischi elevatissimi, daranno cedole sostanziose. Anche il mercato azionario fornisce interessi parecchio elevati e di fatto le azioni, se utilizzate in modo errato, possono diventare molto rischiose. In definitiva, piu' aumenta il rischio di perdere i soldi con un certo investimento e piu' questa soluzione puo' potenzialmente fornire rendimenti maggiori. Quindi abbiamo che un investimento sicuro non puo' sicuramente dare interessi decenti. Conclusione. Investire soldi a breve termine e a basso rischio significa affidarsi a un investimento che non deve presentare né fotoscillazione di valori, quindi no azioni, forex, commodity e simili, in quanto non c'e' nessuna garanzia che alla fine dei termini essi presentano valori maggiori o uguali a quelli di partenza. Bisogna quindi andare su un investimento ad andamento lineare, tipo le obbligazioni, i fondi immobiliari, eccetera. Inoltre, il breve termine taglia fuori quasi tutti quegli investimenti ad andamento lineare ad esclusione dell'obbligazione di liquidit'a. Obbligazione quindi tipo trimestrale, semestrale, massimo, annuale. Il fatto che cerchi un investimento sicuro suppongo in denti che non debba esserci il rischio di perdere soldi. Di conseguenza, non puoi affidare i tuoi soldi a nazioni o aziende traballanti e devi quindi muoverti nel range di soggetti ritenuti solidi. Quindi, se vuoi davvero investire a breve termine a basso rischio, secondo me la soluzione migliore e' il bot a 3, 6 o 12 mesi a seconda delle tue esigenze, oppure puoi anche inserire i soldi in un conto deposito a rendimento elevato, qualorché i soldi che devi depositare non siano tantissimi. Non vi sono altre soluzioni che non questi o simili a queste. Bene, concludo il video ricordando di iscriverti al canale e di cliccare nel link giu' in descrizione per accedere ai 7 video gratuiti sugli investimenti.